Iniziamo direttamente dalla lettura del proemio, altrimenti detta protasi, in cui Dante ci spiega che sta affrontando una nuova avventura, diciamo così, nell'ambito di un ambiente, il purgatorio, che è assolutamente differente rispetto all'ambiente buio dell'inferno. Attenzione che quando con Dante si parla di buio e di luce, ovviamente usiamo i termini con valenza allegorica, vale a dire il buio rappresenta la perdizione come la selva oscura all'inizio dell'inferno, il buio rappresenta la perdizione e la condanna, mentre la luce rappresenta Dio e la salvezza. Tanto l'inferno è buio, quanto nell'esordio del purgatorio troviamo un paesaggio marino, siamo all'alba e quindi è tutto rischiarato, va bene? E questo ci dà già la percezione della differenza dell'ambiente, ma anche di conseguenza del contenuto della narrazione. La terzina iniziale recita così, Lavorando sulle parole che Dante impiega in questi sei versi, già si capisce quello che avevo introdotto. Intanto le acque sono acque migliori e il suo ingegno è paragonato ad una navicella, letteralmente una metafora perché non c'è il come, ma ci sta dicendo che il suo ingegno, la navicella del suo ingegno, alza le vele per correre, per attraversare acque migliori, rispetto a quello che è il mare si crudele che si è lasciato alle spalle. Quindi fa riferimento alla propria esperienza passata nei gironi dell'inferno. Una parola chiave è si purga e l'altra è di salire. Le anime si trovano temporaneamente nel purgatorio. Questo è dovuto al fatto che all'ultimo si sono pentite e la bontà infinita di Dio ha offerto loro questa possibilità. Devono sostare per un periodo, poi vedremo come funziona la casistica del tempo di purificazione, per poi arrivare in paradiso. Nelle note introduttive del purgatorio si trova sempre indicato come il purgatorio in realtà non esistesse nella tradizione antica. Il purgatorio è stato un'invenzione medievale. Lo spiega molto bene Jacques Le Goff, che è un grande medievista francese, che spiega come l'invenzione del purgatorio fosse dovuta al bisogno di garantire un'opportunità di salvezza a coloro che si occupavano di attività mercantili, coloro che usavano il denaro e coloro dunque che svolgevano un'attività che magari per la Chiesa poteva essere poco consona, per un cristiano, maneggiare il denaro, essere nel mondo degli affari, arricchirsi, eccetera. Ed ecco allora che il purgatorio rispondeva a questa esigenza, dare la possibilità a chi in fondo si era dedicato ad attività poco cristiane di non definire all'inferno, bensì di sostare per un periodo in un ambiente che è intermedio per poi arrivare in paradiso. Quindi è interessante questo perché nei testi antichi non si parla del purgatorio, si parla dell'inferno, si parla del paradiso, ma non del purgatorio, che evidentemente è un'invenzione più recente. Salire, perché dice salire al cielo? Ma perché il purgatorio è concepito come un'enorme montagna che si trova al centro dell'oceano, c'è un isolotto, un'isola anzi, un'isola che per la maggior parte è occupata dalla superficie di questa montagna e quindi Dante si troverà a salire. Prima passa per l'antipurgatorio, poi ad un certo punto ci sarà una porta, ci sarà un angelo che apporrà sulla sua fronte sette pi corrispondenti ai sette peccati capitali e di lì Dante man mano che sale gli verrà cancellata ad una duna la pi finché arriverà al paradiso terrestre. Paradiso terrestre che sarebbe la parte estrema, la punta, la cima della montagna, anche questa sembra un'invenzione di Dante e nel paradiso terrestre poi da lì si leverà in cielo. La cosa interessante è che nel paradiso terrestre ritroverà la sua Beatrice perché sarà Beatrice ad accompagnarlo nel paradiso, non Virgilio perché Virgilio non essendo stato battezzato e quindi essendo nel limbo, confinato nel limbo, non può accedere in un ambiente in cui invece hanno accesso le anime di coloro che oltre ad essere retti hanno ricevuto il battesimo. Quindi salire è una parola chiave. I primi tre versi sono dedicati allo stile perché si innalza allo stile. I versi 4 e 6 sono riferiti al contenuto e adesso c'è il riferimento alle muse. Ogni poema che si rispetti si apre con l'invocazione alle muse. In questo caso si cita Calliope al verso 9 che era la musa dell'epica, quindi una musa autorevole. Dante scrive «Ma qui la morta poesì ressurga, o sante muse, poiché vostro sono, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono, di cui le picche misere sentirolo colpo tal che disperar perdono». La nostra poesia si risollevi o sante muse, poiché io sono vostro, quindi dice che appartiene alle muse, è un poeta, e qui si levi anche Calliope, seguitando vuol dire accompagnando il mio canto con quel suono di cui le picche, poi vi spiego, sentirono il colpo tale, le picche infelici, che disperarono nel perdono. E qui è Dante. Dante ha una mente potente, ha una memoria potente, e ha la capacità di fondere insieme riferimenti al mondo religioso e anche al mondo classico. Le picche, le note vi aiutano, erano le figlie di Pierio, il re di Tessaglia, che ebbero l'ardire di sfidare nel canto le muse. Ora, non puoi sfidare nel canto le muse, perché le muse sono le divinità protettrici delle arti, e infatti finimale, e furono trasformate in, non solo furono sconfitte, ma anche furono trasformate in gazze, le picche appunto, questo è il termine che significa gazze. Allora, sei versi per indicare la musa, ma per dire anche che, a questo punto la poesia deve risorgere, deve sorgere Cagliope. Quindi voi vedete che le anime salgono, la poesia deve risorgere, deve sorgere Cagliope, c'è quest'idea veicolata della salita, dell'innalzamento del tono, ma anche dell'esperienza. Quest'idea di rinnovamento viene ribadita anche nei versi successivi in cui si apre per noi un paesaggio marino di assoluta bellezza e che invita alla serenità, all'accoglienza. Anche questo è interessante, sempre per parlare dell'allegoria, il paesaggio che indica una serenità è l'immagine della riconciliazione tra Dio e l'uomo. Tanto l'inferno era buio, ed era il buio di chi è stato malvagio, crudele, che è lontano da Dio, quanto il purgatorio invece è il luogo in cui effettivamente c'è stata questa riconciliazione. questo amore ritrovato tra uomo e Dio e questa è la ragione per cui si fa riferimento al verso 19 in particolare al bel pianeto, cioè a Venere, che è la dea dell'amore. Ribadisco, il paesaggio marino aperto chiama la serenità, il bel pianeta chiama l'amore, tutto concorre a darci l'idea di una conciliazione, di un amore ritrovato. Come lo descrive il paesaggio? Dice che ha un colore dolce, dolce mai più l'avremmo trovato nell'inferno, almeno che non si parlasse di qualcosa di caro, ma qui invece proprio è il colore del paesaggio dolce, d'oriental zaffiro, che si accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro, dell'atmosfera pura, infino al primo giro, fino all'orizzonte. Tutto questo per dire che il colore dolce dell'alba e dell'azzurro del cielo determinò nel poeta un inizio di diletto. Agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuori dell'aura morta che mi avevano contristati gli occhi il petto. resta come in ciascuno di noi, resta indelebile il ricordo delle esperienze negative, qui accade altrettanto. Dante si ricorda a memoria dell'esperienza fatta il mar si crudele prima e adesso l'esperienza dell'aura morta, dell'aria morta, l'aria di morte, però anche allegoricamente l'aria della perdizione, della condanna, non è solo la morte fisica, anche la morte dello spirito, che aveva contristato gli occhi il petto, la tristezza. Quindi questo verso, questi due versi, 17 e 18, l'aura morta, contristati gli occhi il petto, danno l'idea della memoria del passato, dell'esperienza negativa dell'inferno, mentre invece tutto intorno la situazione giustifica l'inizio di un diletto al verso 16. Il bel pianeta che da mar conforta faceva tutto ridere l'Oriente velando i pesci che erano in sua scorta. Dante usa spesso delle perifrasi astronomiche per indicare dove siamo, quando siamo soprattutto, quando siamo e così la costellazione dei pesci segue la costellazione dell'Ariete. Siamo nella settimana santa del 1300 quindi i conti alla fine tornano. Una perifrasi per dire appunto quando siamo. Bella anche l'immagine del pianeta che fa ridere l'Oriente nel senso che lo rischiara. È un'immagine poetica il collegamento tra la luminosità, la serenità e il sorriso che appunto indica uno stato di benessere. Che cosa vi regalo? Vi regalo una noticina sul zaffiro perché non è un caso che il colore dolce sia di orientale zaffiro. zaffiro una pietra ma voi dovete sapere che nei lapidari medievali cioè i testi in cui si descrivevano le proprietà delle pietre veniva attribuita una particolarità una peculiarità una proprietà anzi a ciascuna pietra e quindi così anche per le erbe per esempio così per gli animali di solito quando si fa letteratura italiana si parte proprio da questo discorso dell'allegoria nel medioevo in questo caso lo zaffiro secondo gli uomini del medioevo ha la proprietà di far uscire dal carcere i prigionieri di placare la collera di Dio di liberare gli occhi dalle impurità io mi volsi a man destra e puosimenta l'altro polo e vidi di quattro stelle non viste mai se non dalla prima gente cioè da Adamo ed Eva il cielo pareva goder delle loro fiammelle di che cosa sta parlando allora anche qui il discorso allegorico Dante si muove intanto bisogna dare le coordinate del discorso dove si trova Dante Dante si trova nell'emisfero opposto al nostro e quindi ha la possibilità di vedere le quattro stelle che sono visibili dal paradiso ma che furono visibili a chi in paradiso ci fu Adamo ed Eva e che una volta cacciati da Adamo ed Eva dal paradiso non furono più visibili agli uomini che evidentemente occupano l'altra metà dell'emisfero e l'emisfero boreale non può vederle chi è nell'emisfero australe ha la possibilità di vederle cosa sono queste quattro stelle sono quattro stelle che rappresentano le quattro virtù cardinali quindi sono la prudenza la giustizia la fortezza e la temperanza il nostro sito il nostro emisfero boreale non può vederle per questo è vedovo al verso 26 perché è privato di poterle ammirare e adesso c'è finalmente l'incontro ad effetto con un'anima come io dal loro sguardo fui partito cioè come mi allontanai dal guardarle un poco me volgendo all'altro polo cioè al polo artico là onde il carro era già sparito dove era ormai tramontata l'orsa maggiore vidi vedi un'altra terzina per indicare il dove o come prima era il quando allora arriva chi vidi presso di me un veglio solo degno di tanta reverenza in vista che più non deve alcun figliolo al padre la grandezza di Dante è che quando si trova ad incontrare e a descrivere delle anime non si presentano mai con dall'inizio dicendo nome cognome gli sono ma il discorso parte o da loro la parola oppure le mette in azione e noi restiamo con la curiosità di chi siano o però a un certo punto gli indizi devono come nei migliori gialli gli indizi devono concorrere ad aiutarci a definire l'identità pensa che l'identità la scopriamo appena al verso 74 perché si fa riferimento alla morte in utica e allora ricostruendo il quadro noi possiamo dire possiamo identificare questo veglio solo questo anziano solo questo uomo di una certa età in catone luticense di chi parliamo parliamo di un personaggio storico che viene preso da Dante a guardia del purgatorio viene messo viene preso da Dante dal mondo antico e viene incaricato risulta incaricato della custodia del purgatorio sulla spiaggetta dell'isola su cui sorge il purgatorio arrivano le anime e la funzione di catone è quella di assicurare l'ordine quindi è uno è un rappresentante della giustizia divina è un ministro della giustizia divina come i mostri dell'inferno soltanto che adesso che leggeremo la descrizione soltanto che è una creatura non dell'inferno ci viene in mente Caronte Carondimonio dagli occhi di Braggia o con gli occhi di Braggia e ci viene in mente Caronte che era veramente una creatura demoniaca oppure minosse ci sono tanti mostri che costellano l'inferno questo invece ha una caratteristica che è una figura venerabile una figura dignitosa che conserva o che viene presentata con i caratteri della della dignità per la funzione che svolge e per quello che è stato allora Catone Luticense è stato un uomo politico vissuto negli anni travagliati della fine della Repubblica Romana ed era un uomo che si era schierato sempre in un'epoca in cui la politica fu caratterizzata da toni accesi da scontri tra eserciti romani ed eserciti romani guerra civile in sostanza in un clima da guerra civile quando Cesare e Pompeo si fronteggiavano si schierò dalla parte di Pompeo e quando ormai era chiaro che Cesare era destinato a restare il padrone assoluto in nome della sua dignità della sua coerenza aveva sempre creduto nella Repubblica aveva sempre difeso la legalità in nome di tutto questo come gesto estremo Catone ad Utica si suicidò quindi è un uomo che si è suicidato e uno potrebbe dire ma scusi perché non è compier delle vigne nella selva dei suicidi per le ragioni che adesso vi dico il suicidio si colloca nell'anno 46 avanti Cristo Catone è dunque l'abbiamo detto un suicida è un pagano eppure Dante gli da un compito gli affida un compito gli assegna un compito così importante per quale ragioni? Le ragioni sono quattro vi prego di segnarvele perché rendiamo conto della scelta di Dante la prima ragione è che Catone fu sempre impegnato nell'ambito della politica ed era ed era un ed era quanto a filosofia era uno stoico stoico cioè l'impegno politico e lo stoicismo la prima ragione perché sono collegati perché voi ricorderete che per gli stoici esisteva un logos universale c'era un principio un principio che era facile per i cristiani far coincidere con la provvidenza quindi questa idea che lui fosse una persona retta impegnata politicamente e che avesse una visione di un mondo ordinato da un logos come un dio non è un dio ma come un dio in fondo era sovrapponibile all'idea cristiana del dio e della provvidenza e questa è la prima la prima ragione e aggiungo anche che in politica fu sempre una figura integerrima onestissima la seconda ragione è che il suo suicidio non fu interpretato da Dante come un gesto di debolezza ma anzi ve l'ho detto si suicidò in modo coerente con le proprie idee un esempio di fortezza morale un segno del suo disprezzo della morte cioè viene riconosciuto il coraggio di aver compiuto un gesto estremo e quindi come dire questo non è proprio corretto da dirsi ma insomma fa sì che il suo suicidio venga connotato in una in una chiave che non è quella di condanna non c'è una condanna per il suo suicidio proprio perché con disprezzo della morte scelse di compiere questo gesto estremo ancora due ragioni perché quattro sono Catone Uticense è il protagonista del De Bello Civili Lucano scrisse un poema civile un poema sulla guerra civile De Bello civili in cui i protagonisti sono Cesare Pompeo ma c'è anche Catone e allora il buon Dante che prende il poema di Lucano come modello rende omaggio in fondo al suo modello il quarto aspetto ci porta a parlare di un'idea geniale di un critico di Dante che si chiama Auerbach Eric Auerbach di cui sicuramente avrete sentito parlare perché è a lui che si deve la concezione figurale di che cosa parliamo Auerbach ha definito questa cosa la concezione figurale della storia nel mondo medievale in cui tutto si tiene non c'è l'idea dello sviluppo del cambiamento possiamo definire possiamo individuare alcuni eventi in relazione con altri faccio un esempio la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto ad opera di Mosè in un certo senso anticipa quella che è la liberazione degli uomini dal peccato ad opera di Cristo Mosè è figura Cristo è adempimento un fatto che accade prima anticipa qualcosa che si realizza dopo e così e questo è il quarto punto che riguarda Catone Catone può essere letto nella concezione figurale come figura di Cristo perché Catone con il suo sacrificio riscatta Roma dalla schiavitù di Cesare così come Cristo col suo sacrificio più recentemente dopo qualche decennio dopo riscattò gli uomini dalla schiavitù del peccato di seguito la descrizione di Catone lunga la barba e di pel bianco mista portava ai suoi capelli similiante dei quai cadea il petto doppia lista quindi allora i capelli e la barba sono bianchi e i capelli hanno la scriminatura gli cadono da ambo i lati fino al petto è una sorta di santone se mi permettete questa espressione ma un'immagine in realtà che richiama quella dei filosofi antichi e anche dei filosofi stoici salvo che Dante come in questo momento che la luce del sole sta entrando nell'aula e vi rende tutti dorati così Dante si ricorda questo particolare che le quattro stelle che stanno alle spalle di Catone gli conferiscono quasi una sorta di aureola perché dice gli raggi delle quattro luci sante che sono le quattro stelle di prima freggiavansi la sua faccia di lume che io lo vedea come il sole fosse davanti quindi non solo è una figura dignitosa con la sua barba e i capelli bianchi ma anche a questa luce che gli effonde intorno a lui una sorta di 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 aureola dorata e adesso gli da la parola chi siete voi che contro al cieco fiume avete fuggita la prigione eterna di selmo vendo quelle oneste piume chi va guidati o che vi fu lucerno uscendo fuor dalla profonda notte che sempre nera fa la valle inferna sono le leggi di abisso così rotte o è mutato in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte l'intervento di catone è un intervento di rimprovero non sarà mai come non sarà mai duro come l'intervento di caronte sorpreso dal vedere dante sulle rive della caronte ma è un intervento deciso perché di che cosa si preoccupa si preoccupa che i due che si trovano lì non abbiano violato quelle che lui chiama le leggi d'abisso chi siete voi che contro il cieco fiume il fiume lette siete fuggiti dalla prigione eterna considera che questi due siano riusciti a fuggire dalla prigione interna dell'inferno disse egli muovendo le oneste piume non è un uccello ma evidentemente piume è una metafora per indicare la barba e la chioma chi vi ha guidati o chi vi fu lucerna uscendo dalla profonda notte che sempre nera fa la valle inferna l'inferno è notte è profonda notte è nero è una valle una valle inferna rispetto a questo Catone chiede chi abbia illuminato chi abbia indicato loro il cammino e la terzina del 46 è proprio esprime la sua preoccupazione che fu anche la che fu quello che connotò Catone in vita Catone fu fondamentalmente interessato al rispetto delle leggi e per questo chiede sono le leggi d'abisso così rotte si preoccupa che la presenza di Dante e Virgilio che lui ancora non sa chi siano ma sono due intrusi si preoccupa che la loro presenza sia l'effetto di una violazione delle leggi sono le leggi d'abisso le leggi dell'inferno così rotte o in cielo è stata presa una nuova decisione per cui venite alle mie grotte attenzione al dannati vi prego dannati a valore concessivo significa per cui nonostante siate dannati a valore concessivo venite alle mie grotte le chiama sue dice mie grotte perché evidentemente sono sue in quanto su di esse a lui il controllo esercita il controllo al 49 invece abbiamo la descrizione di Virgilio Virgilio è assolutamente a disagio io vorrei che io non ho fatto nessuna introduzione iniziale ma in realtà tante informazioni le si ricavano man mano dal testo Virgilio nel purgatorio accompagna Dante ma Virgilio è meno sicuro che nell'inferno si presenta si presenta spesso con disagio risulta in baglia di un disagio per quale ragione perché se considerate quello che differenzia Virgilio dalle altre anime è che le altre anime si stanno purificando per accedere poi al paradiso mentre invece il paradiso è escluso da Virgilio ultimata la sua impresa che è voluta da Dio e poi da Beatrice che lo ha sollecitato ultimata la sua impresa Virgilio tornerà per sempre nel limbo e quindi sa di attraversare un regno dalla cui condizione egli è escluso e allora perché vi parlo del disagio di Virgilio perché di fronte al rimprovero di Catone Virgilio si dà da fare afferra Dante mi diedi piglio e guardate il polissindeto del verso 50 e con parole e con mani e con cenni mi fece reverenti le gambe e il ciglio cioè in sostanza lo afferra lo proprio lo prende per costringerlo ad atteggiarsi al rispetto che la figura di Catone autorevole richiede e poi seconda cosa assistiamo al qui al discorso più lungo di Virgilio Virgilio in tutto in tutto il poema non si espande mai con le parole ma qui invece lo fa perché evidentemente c'è in gioco non una password bensì la possibilità che Dante possa continuare il suo viaggio che conta ben più di una password per accedere al nostro al nostro cellulare è un fatto importante deve persuadere il guardiano del purgatorio affinché acconsenta all'ingresso di Dante alla prosecuzione del viaggio di Dante alla fine se c'è se la decisione del viaggio arriva dall'alto egli non può senz'altro opporsi e allora Virgilio gli spiega dice che non è venuto da solo che c'è una donna Beatrice che è scesa dal cielo per cui lo ha pregato e in questo modo Virgilio ha soccorso sovvenni vuol dire soccorsi aiutai aiutai costui con la mia compagnia la terzina 55 è costruita con tutti i crismi della retorica proprio ad arte ma il senso è chiaro dice dal momento che la tua volontà è che ti si spieghi come veramente la nostra condizione il mio volere la mia volontà non può certamente fare che in modo da negarsi alla tua la dico ancora più semplicemente visto che il tuo la tua volontà è che noi ti diciamo com'è la condizione veramente nostra chi siamo come siamo non posso la mia volontà non è certamente così forte da negarti una risposta e poi ancora il discorso allegorico dice di Dante che Dante non ha mai visto l'ultima sera attenzione che l'ultima sera può essere intesa certo come la morte per dire guarda che Dante non è ancora morto oppure può essere anche intesa come la morte dello spirito perché poi dice una cosa che ci porta a leggerla in questa maniera ma per la sua follia le fussi presso che molto poco tempo avvolger era cosa significa che Dante non ha visto l'ultima sera non ha non ha vissuto non è morto non è morto ma ha rischiato di morire spiritualmente a causa della sua follia e qual è la follia è la follia che voi recuperate nella vostra lettura di Dante dell'inferno nel canto decimo quello degli eretici quel canto di Farinata degli Uberti e di Cavalcante Cavalcanti qual è la follia in cui ha rischiato di rimanere impigliato e per cui ha rischiato di morire Dante la follia è quella di aver creduto di poter raggiungere la verità soltanto grazie alla ragione che è la il motivo per cui gli eretici sono condannati nel decimo canto dell'inferno ribadisco la Dante ha rischiato per la sua follia e la follia era di quando credeva che con la sola ragione con le sole doti intellettuali egli potesse raggiungere la verità in altre parole l'approdo al cristianesimo alla religione cristiana ha salvato Dante ha impedito che Dante morisse spiritualmente che finisse vittima della sua follia e poi riprende il discorso io fu mandato da lui per salvarlo e non c'era altra via se non quella per cui ci siamo incamminati e poi 64 recupera quello che ha che hanno già fatto ho mostrato a lui tutta la gente malvagia e ora intendo mostrare quali spiriti si purificano sotto la tua balia cioè sotto il tuo potere come io l'ho trascinato come io l'ho condotto sarebbe lungo a dirti ma c'è una virtù che dall'alto scende e che mi sostiene nel portarti Dante a qui di fronte dove ti vede e ti ode ora ti piaccia gradire la sua venuta cioè una volta spiegato che cosa è capitato dice che deve essere favorevole al suo arrivo e usa un argomento fortissimo una captatio benevolenze libertà va cercando che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta libertà è parola chiave perché in nome della libertà repubblicana Catone ha sacrificato la propria vita deve essere chiaro che Dante utilizza due argomenti come captatio benevolenze per piegare la volontà di Catone se lo conquista se ne accattiva la simpatia con due argomenti uno è richiamo alla libertà per cui libertà va cercando sa benissimo Catone di che cosa si parli quando si parla di libertà libertà va cercando quello che è sì cara come sa chi in nome suo rifiuta la vita che è quello che ha fatto Catone ha rifiutato la vita per la libertà tu lo sai che non ti fu per lei amara la morte inutica dove lasciasti la veste che al grandì che nel gran giorno sarà sì chiara cioè nel giorno del giudizio universale non sono gli editti eterni rotti da noi quindi lo rassicura sul fatto che non c'è stata nessuna violazione della legge che questi vive quindi ecco espressamente si dice che Dante vive e Minosse me non lega cioè non è non è costretto Minosse è colui l'essere infernale che assegna ai diversi gironi dell'inferno le anime dei dannati Minosse me non lega perché perché sono del cerchio del limbo ove sono gli occhi casti di marzia tua e questo secondo argomento richiama la moglie di cui ricorda gli occhi casti che all'apparenza in vista ancora ti prega o santo petto che per tua la temi per lo suo amore dunque a noi ti piega vuol dire in nome del suo amore piegati a noi e qua le storie delle famiglie sono sempre variegate non c'è una forma unica ma qui la storia interessante perché marzia era stata ripudiata da catone ed era andata sposa ad un oratore famoso dell'epoca quinto ortensio ortalo va bene salvo che alla fine costui morì e catone riprese la propria moglie riprese marzia come propria moglie un caso incredibile cioè era stata la sua sposa poi era stata la sposa di un altro e poi è diventata di nuovo la sua sposa lascia in andare per i tuoi sette regni grazie riporterò di te a lei se ti degni di essere ricordato laggiù quindi in nome di marzia chiede che gli sia concesso di effettuare il viaggio la risposta di catone è la risposta che da chi ormai in un'altra dimensione non può più essere legato alle passioni terrene guardate che questa è la grande differenza tra l'inferno e il purgatorio nell'inferno le anime dei dannati sono sempre profondamente legate alle loro passioni terrene nel purgatorio invece sono ormai distaccati e così catone non può più provare nulla per marzia dice marzia piacque tanto agli occhi miei mentre che io fui di là sulla vita nella vita terrena disse egli ancora che quante grazie volse da me fei che tutto ciò che la chiese io feci ma ora che dimora al di là del mal fiume il mal fiume della cheronte ma ora che si trova nel limbo non mi può muover più per quella legge che fatta fu quando me ne uscì fuori cioè nel momento in cui io uscì fuori dal limbo dove evidentemente inizialmente catone si trovava la legge divina impedisce che ci sia questo collegamento con chi è nel limbo ormai sono distanti ma alla fine cede perché dice se donna del cel ti muove regge come dici tu non c'è mestiere vuol dire non c'è bisogno di lusinghe non c'è bisogno di preghiere basti ben che per lei mi richegge cioè sia sufficiente il fatto che tu chieda un bene a nome suo a nome di Beatrice che ha mosso Virgilio e poi gli dà due indicazioni e poi per noi la lettura finisce gli dice di andare e di però prima di accedere di effettuare e di proseguire col viaggio è necessario purificarsi e allora ci sono due cose che Dante deve fare una deve lavarsi il viso anzi Virgilio deve far lavare o lavare a Dante il viso perché possa purificarsi di ogni sudiciume e poi la seconda deve prendere un giunco e legarselo cingersi di un giunco e perché questa cosa ma insomma intanto viene presentato come gesto rituale come rituale di purificazione perché così si toglie tutta l'impurità lo dice dopo non si converrebbe con l'occhio pieno di nebbia quindi del colore buio dell'inferno presentarsi davanti al servo che è di quei del paradiso quindi fa riferimento alle creature angeliche non può presentarsi di fronte ai ministri di Dio in puro ma poi l'ultima cosa è finita la spiegazione ma questa idea del giunco ha a che fare con un'immagine di ciò che si flette di ciò che si piega e allora ecco che la scelta del giunco allegoricamente l'acqua allude alla rinascita l'acqua del battesimo ma il giunco allude all'umiltà e Dante deve essere umile per affrontare questo viaggio che è un viaggio verso anche la salvezza sua e di conseguenza dell'umanità e nei versi successivi sui quali noi non ci soffermeremo si parla proprio di questo prodigio di questo rito che Dante compie grazie grazie